Start, 2, 1, initial ignition and liftoff! E hanno mandato appunto questi 8 giorni, no dal 9 mi pare al 19, quindi una decina di giorni di maggio, il gioco uscirà ufficialmente insomma non dal beta test perché il beta test finisce il 19, uscirà ufficialmente il 16 di giugno, costa 49,99 e poi c'è la deluxe edition a 79. Il gioco è sviluppato dai Limbic ma distribuito da Bandai Namco, Limbic è famosa per la serie, soprattutto Topico 6, anche Might and Magic, Heroes e qualcos'altro insomma, quindi sviluppatori hanno esperienza, il gioco l'ho giochicchiato un po'. Allora ci sono, parliamo un attimo, poi adesso sono nella prima missione del tutorial e poi vedremo un attimino anche la sandbox. Allora ci sono delle parti diciamo che mi convincono meno ma il gioco ve lo dico subito mi pare promettente e tra l'altro da quello che ho visto, da quello che ho sentito, da quello che ho letto potrebbe essere anche molto più promettente di Planet Coaster. Planet Coaster non l'ho mai giocato tanto perché primo bisognava essere degli ingegneri per pianificare tutte le decorazioni e balle varie ma soprattutto la parte gestionale non era, non aveva storia anche. Inizio col dirvi che ho scoperto che le attrazioni, no questo è un tutorial quindi ci ha fatto creare questo percorso di montagne russe che adesso proveremo all'interno di una città per insegnare la costruzione e ve la farò vedere. La cosa diciamo interessante è che le attrazioni del nostro parco potranno anche guadagnare dei tratti e questi tratti, alcuni sono più rari di altri, potranno creare una sorta di epicità di questa giostra e quindi permetterci di monetizzare molto con quella giostra ma soprattutto appunto renderla il fascino, il punto forte, il pezzo forte del parco e quindi attrarre gente. La cosa interessante è che puntano molto sullo stupore della gente rispetto a quello che noi costruiamo nel parco ed è una cosa che io avrei apprezzato molto, c'era qualcosina in Planet Coaster ma non così tanto e la micro gestionalità sembra essere molto ben sviluppata in questo titolo quindi è molto interessante. La cosa, adesso inizio a farvi vedere, la cosa che mi piace meno è questa cosa non molto realistica dove il carrello arriva viene sparato di là. Poi vabbè da quello che ho visto non ci sono ancora arrivato con i tutorial ma quando noi progetteremo una trazione a mano insomma dovrà passare di test di sicurezza quindi questa è una cosa molto carina. Vi faccio vedere in breve come funziona. Praticamente noi creiamo e possiamo creare sollevamento a catena o il binario normale perché? Perché noi quando posizioniamo dei blocchi la potremo testare e se la velocità non sarà sufficiente dobbiamo piazzare il sollevamento a catena che è la classica catena che solleva pian piano il nostro carrello, il nostro trenino. Possiamo muoverli, vedete? Possiamo con shift modificare l'altezza, col tasto R possiamo modificare l'inclinazione e col tasto F poi andare a drizzare il trenino. Quindi in questo caso possiamo decidere magari di, non so, fare un giro così e pensare di passare in mezzo a questo. E adesso in realtà no, ci passiamo attraverso quindi ho sbagliato. Posso selezionare l'ultimo tratto e cancellarlo con così. E possiamo andare a piazzarlo con più calma. Quindi andare a mettere, vedete? Lo piazzo così, lo tiro qui, lo sollevo quanto serve. Vedete? Possiamo farlo passare qua in mezzo. La cosa interessante è che ad esempio per poter fare questo salto mi serviva almeno dai, mi pare, dai 97 all'ora fino ai 100... No, c'è scritto qua, dai 112 al 187, quindi ho dovuto creare questa cosa totalmente realistica. Vedete che lo stiamo simulando, lui salta, atterra lì, ricomincia ad andare, non è realistica, non può esistere una cosa così poco sicura. E vedete che qua adesso stiamo andando in salita e stiamo perdendo velocità, quindi ci servirà, insomma, ci servirà andare a riguadagnarla. Possiamo anche andare a ripristinare questo e possiamo andare a metterci noi stessi all'interno del trenino. Adesso non me lo fa andare perché devo avviarlo. Anzi, non va, probabilmente si è buggato. Ripristina. No, non me lo fa fare. Vabbè, potevamo andare... Vedete che adesso parte... Ah, ma perché parte da qua dentro? Ok, perfetto, non ho capito, si è buggato questo. Vabbè, adesso dovremmo riuscire a vedere quello che c'è all'interno. Ok, questa è la velocità a metà, quindi adesso andiamo normali e vedete che qua possiamo metterci ai vari posti. Vedete questa non è niente di entusiasmante, soprattutto è una cosa noiosissima perché una volta che arriviamo qua, vedete che ci sono i binari con la catena che ci trascinano su, però arrivano a quella mega salita, un po' all'americana. Questa è un po' una perdita di tempo perché stiamo sollevando per decine di secondi il nostro trenino, ma il punto forte di questa attrazione non è tanto il percorso in sé, ma la parte finale con il salto. Quindi in questo caso possiamo cambiare anche il punto di vista, quindi andare a... Vedete, si vede anche in lontananza tutto il panorama, la città, la big city e ovviamente qui l'adrenalina sale a mille perché si sale da questa salita totalmente contro ogni legge della fisica, in realtà fino a un certo punto perché poi ci sono le catene, quindi... qua l'adrenalina sale e poi si scende, non si scende a picco, ma si scende per gradi in modo da guadagnare una velocità decente senza creare effetti... Eccolo qui, qua in alto si vede, si va giù, si va giù, si va giù, si va giù e poi si arriva a fare questa curva pericolosissima, ma si salta, ci si riaggancia, poi io non credo esista una roba del genere perché basta anche solo una forte raffica di vento e pone fini a tutto. Ok, questa è la costruzione e vi ho fatto vedere di base come si fa, poi ci sono le possibilità di mettere le rampe e c'era anche un'altra funzione che era il cannone che sparava, diciamo, il vagone oltre alla rampa. La cosa molto interessante è che è tradotto in italiano e soprattutto è doppiato in italiano e nel tutorial abbiamo scelte molte più perché conosceremo varie persone e avremo delle scelte multiple, infatti c'è stata una scelta multiple che mi ha fatto decidere se sbloccare la rampa o il cannone. Parte in modo abbastanza fuori di testa perché noi siamo dei progettisti da casa, insomma, che buttiamo il nostro progetto piegato ad aeroplanino di carta, viene raccolto da una che si è appena schiantata con delle ali turbo e lo vede e dice, ah bellissimo, dai realizziamolo, e ci insegna a giocare. Ora, possiamo tornare al menu principale. Il menu principale poi ci consente, questa è una versione close beta, quindi non è completo, ma il gioco uscirà completo, è possibile preordinarlo, andare nella modalità libera. Ti consiglio di completare la campagna, ma io voglio far vedere, non ora, voglio far vedere come funziona, vedete, molto carino. Non lo so giocare, onestamente, quindi... Proviamo, vedete che abbiamo anche gli obiettivi, gli ingressi, parametri degli obiettivi, fondi iniziali, insomma, così via. Possiamo provare ad iniziare questa. Sì, così almeno vediamo un attimino come è fatto, perché poi in gioco... Vi dico, quando ho visto, come prima cosa, ho visto questi... Nel video introduttivo se ne vedono diverse di attrazioni assurde, dove vengono sparati in aria, carelli e così... E ho detto, peccato perché non è molto realistico, ma in realtà poi mi ha incuriosito molto, e mi ispira molto, e sto valutando appunto se acquistarlo al mese prossimo quando uscirà, per tutta la parte gestionale, tutta la parte di personalizzazione, che sembra essere comunque profondissima, ma nonostante tutto non così da ingegneri come un Planet Coaster, che secondo me, dal mio punto di vista, poi rimango aperto per discussioni qua nei commenti, mi ha un po' deluso sotto altri aspetti, insomma si poteva fare di più. Ok, questo... Poi il tutorial ci spiegherà tutto, adesso io non l'ho fatto, ci spiegherà creare i percorsi pedonali, non è ancora tutto tradotto, possiamo piazzare delle zone, insomma, adesso vediamo le giostre tradizionali, possiamo creare le montagne russre come abbiamo visto, negozi, negozi di... qua dice di piazzare, negozi di cibo, quindi magari mettiamo la pizza, e non me la fa fare qua però, sì, non me l'ha fatto fare, dobbiamo andare a piazzare strade, e da quello che ho visto comunque ci sarà modo di creare tutto quello che vogliamo a livello di, anche di... eh, non ho pensato al contrario, mannaggia a me, anche solo la gestione delle code, il fatto di creare magari un monumento bellissimo, un elemento panoramico, scenografico, veramente spettacolare, farà meravigliare le persone, e facendole meravigliare appunto creerà interesse, e potremo andare poi con dei filtri a vedere tutte le preferenze, quello che amano o non amano i nostri visitatori, poi li potremo andare a monetizzare, ok, qua stiamo... vedete, è tutta una serie di sfide che dobbiamo fare, non è tutto tradotto, new flat ride, take a look, ok, e poi il tutorial ci spiega tutto, come collaudare e testare, quindi piazziamo una flat ride, un pendolo, questo, sì, vedete che ci fa il collegamento, forse non è una flat ride questa, non va bene, posiziona, posiziona l'ingresso, il classico ingresso che si vede solitamente da qui, con l'entrata, questa è una costruzione classica, e l'uscita ce l'abbiamo già, possiamo andare a vedere i visitatori, famiglie, adolescenti, insomma, i pensieri degli ultimi 30 giorni, l'andamento, la redditività, lo stupore, vedete, e abbiamo le statistiche finanziarie, spese, ricavi, profitti, perdite, interazioni, ricavi, spese, cioè, di cose ce ne sono, possiamo personalizzarla, e possiamo aprirla al pubblico, insomma, poi si può fare temporalmente chiusa, si può mettere il prezzo, adesso io non so se in America funzioni così, che mettono il prezzo a ogni attrazione, tu entri, magari paghi poco l'ingresso, e poi paghi ogni singola attrazione, in Italia, almeno siamo abituati diversamente, quindi abbiamo piazzato questa, che tra l'altro mi sa che non andava bene, però va bene, no, no, me l'ha data completata, quindi va bene, e posso aprire anche il parco, volendo, no? ingresso del parco, costa zero, ah, sì, si, interagate, scuola, ingresso gratuito, andiamo, ah, ci sono le persone che entrano, eccole lì, stanno entrando, cliccando sulle persone vediamo, ah, si vede il gruppo, felice, ok, ok, no, stanno arrivando, stanno arrivando, qua cosa dice? Qua possiamo piazzare, questa non ha un'entrata, ok, questo ho già capito, l'entrata la mettiamo qui, qui, con una bella coda lunga, qui, e poi dobbiamo aprezzare l'uscita, l'uscita la facciamo qui, che esce da qui, con i panini, vari, sì, questa è una bella mappa tutorial, che ci fa vedere come funziona, abbiamo anche delle belle montagne russe qui, interessanti, che però non sono completate, quindi dobbiamo andare avanti a completarla, forse non lo possiamo ancora fare, ah no, no, buh, no, non me la farò completare questa, non so perché, comunque qua dice, no, questo l'abbiamo fatto, vabbè, diamo un'occhiata adesso a quello che c'è come personalizzazione, ci sono le giostre tradizionali, divise anche per categorie, quindi adulti, famiglie, adolescenti, e questi sono prefabbricati, poi se ci sarà un supporto anche al workshop, sarà fantastico, sarebbe fantastico, abbiamo tutti gli edifici di cibo, bibite, abbiamo distributori, quindi classici, qui si fanno un sacco di soldi, soprattutto nelle code d'attesa, lo so bene, negozi di souvenir, staff, quindi abbiamo toilette, toilette, ah, sono tutte toilette, lossuose varie, ingressi del parco, questi invece sono edifici per lo staff, che sarebbe sala relax, ok, panchine e cestini, e questi sono moduli di strutture, negozi di peluche, e bale varie, qua abbiamo le strutture modulari, quindi è possibile andare a piazzare un'infinita di roba, interessante, scenografia parte già in italiano, cioè bandai nam con una scherza, e anche doppiato anche molto bene, abbiamo delle parti molto belle, vediamo se qualcuno rimane stupito dal bisonte che mettiamo qui, sì, parte che l'ho messo fluttuante e non va bene, se lo mettessi in mezzo alla strada, tipo, ok, questo lo eliminiamo, no, nessuno ne rimane colpito, però stanno andando già le giostre, vediamo un attimo, possiamo salirci? Sì, vediamo, sì, a parte le compenetrazioni lì, ma va bene, vediamo se, non posso vedere le persone qua, bellissimo, si, mi viene mal di mare già qui, bellino, ok, divertitevi, interessante, andiamo avanti, struttura maturale abbiamo visto, le scenografie, le scenografie le abbiamo viste, la terraformazione, il terreno, diviso per vari tipi di terreno, gestione del parco, abbiamo il riepilogo, l'epilogo, l'epilogo con tutti i commenti, non siamo potuti nemmeno, questi sono le critiche, i ricavi, le spese, costi di gestione, costi staff, molto interessante, visitatori, mi sembra comunque bello, bello focalizzato, perché c'è tutta la parte anche di prestiti, che è bloccata, e vanno analizzati i dati, e c'è anche la ricerca, anche al momento qui non c'è, lo staff che possiamo assumere, a livello di custode, meccanico, parametrico, animatore, e la cosa che ho visto, ci sarà anche la possibilità di organizzare degli eventi all'interno del parco, quindi secondo me, il parere mio, da ignorante, insomma da quello che ho provato, ero partito non con molte aspettative, cioè quando ho visto che uscivo il parco, il parco Beyond, mesi fa, mi ha detto interessante, l'ho visto in immagini, in video, non molto realistico, no, poi l'ho provato, ho visto anche altre prove, insomma, le toccate con mano, e devo dire che ho cambiato nuovamente idea, ne sono particolarmente attratto, perché Planet Coaster era troppo dettagliato, ma mi deludeva, poi magari smentitemi nei commenti, se voi avete mille euro su Planet Coaster, però Planet Coaster, anche chiedendo, giochicchiando un po', ma chiedendo soprattutto a chi già lo giocava, non aveva questo grande impatto, a livello, noi perdiamo sei ore a costruire, magari una zona a tema, oddio, ci hanno monetizzato tanto, ci hanno fatto tanti soldi con i vari DLC, di Ritorno al Futuro, le varie cose, però costruite una cosa, nel minimo dettaglio, però non cambia niente, ed è tutto facile, io spero che questo con la microgestionalità che ha, ci darà delle soddisfazioni, spero, credo e spero, soprattutto, questa giusta è ancora chiusa, sì, non me la fa cliccare, però vedete, questa è una bella zona, la classica negozio miniera, questi sono tutti i negozi, e questa è la mappa che ci guida all'inizio, poi in realtà, non so perché non me lo dà questo, però va bene, adesso le giusta che funzionano non è solo quella, immagino, perché la ruota panoramica qui non va, che poi non capisco cosa sia questa, ah sì, il giro della morte, stare male, sono tutti in coda qui, vediamo un attimino, andiamo a vedere in coda che cosa, aspetta, facciamo una cosa, se noi mettiamo negozi distributori automatici, aspettate che devo trovarlo, non mi ricordo più dove era, distributori, mettiamo distributori, bank, ma no, ma il bank, ma vabbè, bibite, se lo mettessimo, potessimo metterlo qui, eh no, non si può mettere, mannaggia, mannaggia, lo mettiamo, e non si può mettere dove si vuole, va messo lungo la strada, qua c'è un bankomat, io qua mettevo uno dei distributori bibite, e non si può mettere purtroppo sulla zona, andiamo a vedere questi che sono in coda, hanno bisogno di mangiare, breve dove vanno mangiare, sono in coda, sono molto felici, very happy, non hanno speso niente, hanno pagato l'ingresso, della giosta, sì, perché il parco è gratuito, tempo nel parco, 3 minuti, hanno già speso 18 dollari, pensano, per essere la giosta, prendono centinaia, è un vero affare, i percorsi sono puliti da queste parti, già, abbiamo appena aperto, quindi non è ancora, però ognuno aspetta il suo turno, e qua c'è l'operatore, che tra l'altro penso sia integrato con la, con la cosa, manutenzione, ok, non abbiamo tecnici, quindi dovremmo assumerli, vediamo intanto, le opinioni sono buone, perché si vedono comunque mi piace, ci ha stupito, ok, come vi dicevo poi, ho visto che, dovranno guadagnarsi dei perc, le strutture, quindi, la struttura deve generare profitti, ok, se non genera profitti, veniamo avvertiti, questo è il livello del parco, questo è la valutazione del divertimento, e questa è la valutazione della pulizia, 99,2, visitatori e soddisfazione generale, non abbiamo limiti di finanze, quindi, non, al momento è un tutorial anche questo, ragazzi, vale 49, beh, calcolando che sviluppato da Bandai Namco, da, i creatori, distribuito da Bandai Namco, e, realizzato da, gli sviluppatori di Tropico, direi che, potrebbe anche valerne la pena, è interessante, va portato avanti, ci sono diversi tutorial da fare, quindi, spiegano anche, come organizzare bene, il passaggio pedonale, non buttarlo a caso, come funziona il test, delle attrazioni nuove, quindi, insomma, è bello profondo il gioco, quindi, sarà, bisognerà darci un'occhiata, sicuramente, io onestamente, lo valuterò seriamente, ma, al netto, non, 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 non c'entrano i video, nel senso, io ve ne parlo chiaramente, vi dico, per giocarlo io, insomma, mi ispira, quindi, vi do un parere mio personale, insomma, sul mio divertimento personale, lo valuterò seriamente, il 16 di giugno, ma, ora, lascio la parola a voi, ditemi che cosa ne pensate, se lo avete provato, insomma, se avete provato più Planet Coaster, se vogliamo parlare un attimino, questo nei commenti, tanto so che lo fanno sempre in pochi, però, volentieri, se lo volete fare, io sono qui, con questo vi saluto, e vi rimando ai prossimi video gameplay, alla prossima, e ciao ciao.